La capacità di gestione dell'emergenza pandemica e la sostenibilità ambientale sono i meriti riconosciuti alla GESAP e che hanno portato l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo a conquistare il premio come migliore scalo aereo europeo nell'ambito del Best Airport Awards per la categoria 5-10 milioni di passeggeri. Ad assegnare riconoscimento è stata l'Associazione Airports Council International che riunisce oltre 500 scali. Il premio è stato assegnato a Ginevra durante la 31esima Assemblea Generale e il congresso annuale. Al Falcone Borsellino sono state applicate adeguatamente le misure anti-covid con la creazione di un centro tamponi di mille metri quadrati. Anche la sostenibilità ambientale ha meritato una menzione con l'acquisizione del secondo livello di riduzione dell'Airport Carbon Accreditation. È stato anche realizzato un parcheggio per auto con la produzione di energia dai pannelli fotovoltaici. Allo scalo palermitano è stata infine riconosciuta pure la capacità di resilienza durante la pandemia per il recupero del traffico passeggeri frutto del consolidamento e dello sviluppo dei rapporti commerciali con le compagnie aeree.